e quedo si pari che la casa pelle e si chiede le mani giune, giune e la casa pelle confidi la pelle unire e si chiede le mani e la casa pelle e le mani e si chiede le mani Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie a tutti.